Nonostante tutto sarebbero stati costretti a partire, nonostante le ustioni riportate nello scoppio di una bombola nelle casolare in Libia in cui i trafficanti li avevano rinchiusi in attesa della partenza. Secondo quanto ricostruito da Save the Children, subito dopo l'esplosione, tre uomini, una donna e un neonato sono morti, un'altra donna invece morta a bordo del barcone durante la traversata. Altrimenti i migranti, nonostante le ustioni non curate, sono stati costretti a imbarcarsi con altre 50 persone. Una volta arrivati a Lampedusa, cinque sono stati trasferiti in elicotteri in ospedale, venti sono stati portati presso la struttura sanitaria dell'isola per ricevere cure mediche. Gli altri sono stati trasferiti in una struttura di accoglienza. Ma c'è un altro episodio legato all'immigrazione clandestina emerso negli ultimi giorni sul quale i magistrati di Palermo stanno cercando riscontri certi. Alcuni migranti condotti nei giorni scorsi in città hanno raccontato che durante la traversata alcune persone di fede musulmana avrebbero gettato in mare tra i nove e i dodici compagni di viaggio, solo perché cristiani. I racconti dei superstiti sono ancora all'esame degli inquirenti, al momento 15 i sospettati del presunto omicidio, tra i quali c'è un minorenne provenienti da Mali, Senegal e Costa d'Avorio. Solo l'arrivo dei mezzi di soccorso avrebbe impedito un bilancio più pesante. Nessun cadavere però è stato trovato in acqua dai soccorritori, circostanza sulla quale, nonostante i racconti dei superstiti siano concordi, stanno cercando di fare luce gli investigatori. Gli immigrati salvati nei giorni scorsi avevano raccontato anche di un'altra strage. 41 morti in un naufragio avvenuto nel canale di Sicilia. Il presunto scafista, un 31enne originario della Nigeria, è stato arrestato a Trapani dalla polizia. Solo lui, insieme ad altri tre naufraghi, sarebbe riuscito a salvarsi. Per dare un'idea delle dimensioni degli arrivi degli ultimi giorni, basta dire che sono stati oltre 11.000 migranti soccorsi nel canale di Sicilia nell'ultima settimana dalla Guardia Costiera e dei mezzi della missione Triton dell'Agenzia Europea Frontex. Davanti a numeri di questa portata, però i partner europei non sembrano intenzionati a potenziare la loro partecipazione. Lunedì il Consiglio degli Esteri Europei avrà in agenda la situazione della Libia. Secondo altre fonti diplomatiche europee, però riportate dall'Agenzia ANSA, non ci sarebbe ancora la volontà collettiva di un'azione marittima più forte.